Eccomi, sì, sono arrivata, contenta? Oh, cara mia sorellina, allora, hai preso finalmente una decisione, eh? Sì, ho preso la decisione e la mia risposta è no. Che cosa hai detto? Ho detto di no. Ma com'è possibile, tesoro? Io e te potevamo dominare il mondo insieme, non capisci? Sì, invece sì che capisco, non rinuncio alle mie amiche per venire con te, cioè siamo impazziti. Tu non puoi, e allora tu invece verrai con me, tesoro. Che cosa? Ehi, lasciami stare! Farai una brutta fine, traditrice. Non lo farai sul serio, vero? Sei mia sorella, non puoi farmi questo. Ti prego, invece sì. Tu non vuoi venire con me, e allora ti lascerò andare. Vieni, sis, andiamo. Ti porto via con me. Dove? Ma dove? Dove sono? Ma dove, diamine? Che cos'è questo posto? Non capisco. Ciao, sorellina. Sadness, ancora tu? Sei stata tu a portarmi qui? Come puoi avermi fatto questo? Adesso tu mi devi spiegare. Perché sono qua dentro? Semplice. Sto aspettando ancora la tua risposta. Sto aspettando il tuo sì. Sono venuta a chiederti. È vero che verrai una buona volta con me? Ma come posso fidarmi ancora di te? Che cosa ne sarà di noi? E poi, le mie amiche. Io pensavo fossi cambiata. Non posso più fidarmi di te, sis. Sarai pur mia sorella. Però, la mia risposta è ancora no. Capisco. E allora non posso fare altro che lasciarti qui. Che cosa? Cosa? Non puoi... Mi piange il cuore, tesoro. A dover lasciarti qui, in queste condizioni. Però non ci posso fare niente. Finché non mi darai un sì, io ti lascerò qui. Adesso vado a far visita alle tue amichette. Perdonami, sis. Perdonami, Uno. Perdonami, c'è qualcosa di più classe. Grazie a tutti